Archiviato il pari in Coppa Italia con l'Akragas, la Nissa torna a respirare aria di campionato. Domenica la squadra biancoscudata sarà chiamata a giocare con la Parmonval per la quarta giornata del campionato di eccellenza Girone A. I Visseni, che finora non hanno mai vinto nel realizzato un gol racimolando appena un punto, scenderanno in campo ancora una volta per tentare la via del successo. Ma l'impresa non si preannuncia tra le più agevoli contro la Parmonval che vanta quattro punti all'attivo frutto di una vittoria e un pareggio. Il quadro completo delle partite della quarta giornata. Casteldaccia-Akragas, Don Carlo Misilmeri-Gela, Enna-Cus-Palermo, Leonfortese-Mazzarese, Mazzara-Profavara, Nissa-Parmonval, Resuttana-San Lorenzo-Castellammare, Sciacca-Oratorio-Santiciro e Giorgio.